fondamentale bene benvenuti a questa breve brevissima indagine nuovamente sul deep state siamo qua in compagnia della nostra amica ma posso anche non dire il nome e di stefania ed elena benvenute ciao ciao a tutti allora vi accompagno contando velocemente brevemente da 5 a 1 e vi connettete alla situazione che ci ha richiesto come indagine la nostra amica diciamo deep state ok il terra reali windsor vediamo 5 4 3 2 1 ditemi qualunque cosa a me è arrivata subito un'immagine ho visto questo tizio potrebbe assomigliare a boris johnson si chiama boris johnson giusto e lo vedo l'ho visto molto impanicato lo vedo molto impanicato e impaurito che corre da una parte all'altra deve fare devi far fare delle cose a una parte dell'esercito in tempi brevi perché se queste cose non vengono concluse rischiano tutti la testa rischiano tutti di essere accusati e condannati questa è l'immagine che mi è arrivata stefania ma io sono vedo la regina la vedo che la vedo che cammina la vedo con un cappello all'interno del pazzo è un po' curva sta camminando avanti indietro si come se dovesse riflettere su su delle soluzioni da trovare ok l'assento sì dimmi dimmi no non la sento particolarmente è come se da lei non non arrivasse nessun tipo di energia ok chiedo entrambe di proteggere la connessione di tutti e quattro di questa sessione perché potrebbe essere particolarmente attaccata in questo caso e non ho voglia di richiamare nessuno e di interrompere nulla va bene la regina e rettiliana sì sì io la vedo così anche se il percentuale di dna rettile stefania vedere 80 90 ma da quello che ho sentito prima quando è arrivata non ho la percezione che ci sia più la regina cioè è come se ci fosse l'involucro ci fosse la parte rettiliana ma come se lei non non ci fosse una vibrazione umana no perché gli esseri umani normalmente hanno una vibrazione ed è lei non non emana niente un contenitore un contenitore come fosse un corpo finto cioè elena la regina io la vedo se no non vedo la regina umana neanche io avrei detto che 70 per cento rettile 30 per cento antide quindi proprio di umana non c'è più nulla ok il l'ex marito morto e rettile se principe il figlio maggiore rettile carlo no ah sì hai ragione carlosi vediamo carlo sì 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 ma io carlo una parte una parte ancora umana uguale ha chiesto così la camilla anche vediamo che una parte si è un uomo tanto femminile non è io non la vedo né un e femmina né maschio non so se non so come dire è una cosa c'è non ha né qua né la ok mi interessano di più i nipoti il grande pronto per il trono ed il piccolo che è andato in america eccetera più rispettive consorti ditemi solo quello che può essere interessante di interesse comune allora quello che vedo io come se il grande dovesse star lì per controllare per fare punto della situazione lì e il piccolo fosse stato mandato la come se fosse un satellite della stessa cosa la in america come dividersi le zone esatto il piccolo è il figlio della madre viene del padre di carlo sì io vedo di sì stefania allora io lo vedo come devo vedere meglio perché il figlio erbi come eri eri io lo sento come il figlio della madre come se la parte maschile non io non la percepissi cioè figlio di diana ma non sono sicura che ci sia improvvetta è una parte maschile se così ok secondo david ike i windsor sono roccia il rockfeller la stessa stirpe strip reale stesso sangue sì secondo me sì 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 e ai tutti i retti il reale allora quello che maria quello che è arrivato a me che vabbè interferito parecchio che arriva da una famiglia ricca ma non reale non lo vedo collegato a questa famiglia qua boris johnson cosa deve fare allora io vedo che deve sistemare le cose deve riuscire a come se lui non riuscisse a sistemare se non dovesse riuscire a sistemare l'interferenza che ci sono state nei loro piani verrebbe tutta la luce e loro sarebbero condannati a morte tutti quanti i reali sì vedo che stanno come dice lena è come se stessero dando lui stesse scegliendo chi incaricare per portare avanti questo compito per cui anche questo andare avanti indietro questo essere agitato e legato al fatto che deve individuare la persona che effettivamente svolgerà questa cosa ok ma quello che deve fare boris il nostro amico boris spingere ulteriormente più velocemente sui cini vac che contengono elementi di controllo cosa contengono i cini vac stringi quali elementi hanno qual è l'obiettivo vero di questo si ero abbiamo piatti si dice che ci sia una tecnologia proprietaria quindi se tu hai qualcosa di un'azienda e l'azienda non te l'ha venduto di fatto sei proprietà dell'azienda secondo sei rintracciabile perché questo qualche cosa a un è come un'antenna gsm come sei come un telefono vivente quindi sei rintracciabile controllabile e sei non più tu ma di proprietà libero anche se non lo siamo ma di proprietà dei 344 che hanno prodotto il siero no le quattro aziende mondiali si entrambi si siano già guarda provando entrare nella fialetta allora quello che nel nero sì ma allora una cosa che che non avevo mai provato insomma percepisco una parte in movimento che è come viene anche ultimamente detto rispetto all'ossido di grafene ma quello che rilevo è che una parte in movimento che si attiva all'interno del corpo del corpo umano per cui non lo percepisco come latente in alcune zone ma lo percepisco come già attivo come fosse come fosse movimento all'interno del corpo come un essere vivente non umano chiaramente ma un esser vivente una tecnologia ma che è vivente quindi è autonomo non trova la parola giusta più che autonomo e vive di vita proprio vive di vita propria e ha la possibilità di riprodursi ma questa riproduzione avverrà solo con delle onde da lì poi parte la riproduzione ma al momento è una volta inserito è un essere vivente quindi ma con le onde che succede all'ospite zombie muore che pazzisce diventa più intelligente fosse gli oggetti col col pensiero in cieco quello vince i quadri di caravaggio quello che vedo io è che con un certo comando vedo che dall'alto ma no tipo come se fosse un avatar ok come se fosse gli avatar che noi vediamo con davanti un enorme centro di controllo e hanno dei vari messaggi vari codici che possono mandare alle persone a seconda del codice che mandano la persona fa determinate cose oppure possono fargli venire una certa una certa disfunzione fisiologica oppure possono fare modificare il pensiero anche avere delle immagini davanti alla retina davanti agli occhi esatto si anche la visione delle cose posso fare un passo indietro perché una cosa allora prima quando c'era la regina ecco una cosa che ho rilevato che in particolare che la differenza di frequenza no quindi un essere umano a una vibrazione ma i rettiliani quello che ho sentito prima invece viaggiano a onde elettriche come se viaggiassero impulsi quello che si rileva quando si è lì vicino in eterico magari stando lì vicino direttamente e che è come se mandassero dei segnali a impulso mi viene in mente questo collegamento perché questa tecnologia decine vac è collegata agli impulsi proprio e mi è venuto questo parallelismo chiudere bene beh l'uomo busto vediamo dopo nuvole abbassate ultimamente si è notata bassa nuvole abbassati cioè come se fosse qualcosa di spingesse più in basso è quello che mi è venuto adesso è che più che e nulla abbassate che essendo la maggior parte nuvole artificiali quindi create magari con tecnologia art o tecnologie simili hanno una consistenza che fa sì che rimangano più basse che non possano stare alla stessa altezza di quelle naturali al di là dell'altezza nella bassezza qual è l'obiettivo di queste nuvole cosa fanno allora hanno una grossa concetto allora due obiettivi io vedo che quando mai fatto come hai fatto questa domanda ho visto due cose la prima è che hanno una concentrazione di sostanze chimiche artificiali molto elevata quindi molto simile scia chimiche ma come se stessero di stati che quindi quando piove piove molta di quella sostanza e poi anche per in questo momento lo usano come doppio scopo quindi anche per continuare il loro progetto che riguarda anche l'emergenza atmosferica ambientale e quindi usano come scusa per poter cercare di portare avanti anche questa cosa e stefania sì prima parte che ha detto in effetti la usano anche per il raccolto perché quando appunto c'è la pioggia e vengono giù questi queste particelle vanno a colpire direttamente le coltivazioni e una parte del del piano dell'intenzione quella di spingere sul sul sugli alimenti modificati rispetto a e quindi è come se entrando queste particelle nel terreno andassero nel tempo a inibire il raccolto quindi favorire questo cambio e questa caduta del dip state quando avviene perché vista cosa non si può più con queste condizioni quando avviene cosa ritaglia ma no il ritardo che vedo io allora io vedo che gli uomini del tempo non riescono più a fare niente appena arrivano io vedo ancora le nostre vacuum attive però vedo che ci sono che agendo sulle persone queste persone la vibrazione bassa di queste persone un po riesce a rallentare il resto ancora vacuum se non ricordo male una cosa che avevamo fatto per sono di portare gli aspiratori per uomini uomini del tempo sì perché però così con le condizioni di oggi io penso primi mesi dell'anno quindi febbraio marzo io vedo verso marzo sì una primavera ok me lo chiedono in tanti anche se non ha senso come domanda i cd vacati possono tornare indietro c'è l'unica possibilità che uno sia completamente centrato con la propria ps ma è molto difficile soprattutto per chi ha scelto di farsi cineva care perché se l'ha fatto questa scelta una consapevolezza molto c'è una persona che mi ha contattato che mi ha detto che l'ha fatto apposta non perché fosse obbligata però che se mi devo per dimostrare a tutti che lei può farlo e la sua ps il risposto auguri ma ma è sommato delle cose più strane che mi sia state lette negli ultimi tempi va bene vabbè facciamo una piccola azione mettiamo sappiamo creare i ad eterno tutti adesso ne creiamo uno in tre molto grande molto molto grande molto più grande dell'infinitum che era già grande molto 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 grande uno è in buckingham palace ora uno è in ogni comune del regno unito scozia galles e anche irlanda che non è regno unito ogni comune vuol dire che sono anche dieci case ce n'è uno lì uno per ogni membro dei windsor attaccato alle natiche come se fosse il codino pompon di un coniglietto e uno dove volete voi tutte le città in tutte le spiagge in tutte le campagne in tutti i comuni come edificio del comune in tutti i concessionari di automobili dove volete poi ne creiamo uno vicino ad ogni vacuum queste strutture che aspirano gli uomini del tempo contemporaneamente accanto hanno un altro emanatore di vibrazioni uno non ci abbiamo mai pensato in mano anzi a mo di codina di coniglio per zeus 1 per lucas 1 per posidone se c'è uno per il capo di tutti i felinoidi 1 per il capo di tutti i rettiliani 1 per il capo di tutti gli insettoidi mantidi che dovrebbero essere le più importanti 1 per il capo dei gregi che mi fa un po' ridere uno per il capo degli anfibioidi uno per il capo di caprini tutti quelli rari che non abbiamo quasi mai trovato uno per il capo degli nomi di tutte queste piccole entità che scassano insomma la creazione nostra ci siamo fregati con le nostre mani ma abbiamo finalmente trovato il modo di alzare le frequenze in maniera automatica i primi cosa vedete io vedo quanto abbiamo messo gli ad eterno adesso tutte le interferenze è come se iniziato a vibrare tutto lo spazio in maniera molto potente sì io vedo come un vortice un vortice praticamente all'altezza del cielo insomma un vortice che sembra aspirare verso l'alto tira su risucchi e bovis johnson cosa fa ma vedo come fulgorato immobile fulgorato che che prima tutto la frequenza di schumann della terra è aumentata dall'inizio della sessione adesso tipo a qualche punto io vedo che uscilla un po vedo che il colore che non so quale fosse prima ma il che colore della terra è come se ci fosse un onda vibratorio un'onda di frequenza che va tra il verde e l'azzurro come se ok una parola finale non so quello che quello che va arriva su quello che abbiamo fatto su quello che abbiamo visto sul nome del progetto come si chiama questo progetto di cineva che tutto il resto è venuto all'alletium alle fium cioè le vie a cosa no più da allevamento sefania non in obiettivo che possono essere infiniti e quindi si vanno solo non mi viene un nome ma mi viene lo scopo appunto che quello di di essere in qualche modo cibo va bene chiudiamo qui